benvenuti in questa guida top 7 trappole per topi di consiglio pro tra questi sette abbiamo individuato il migliore il consigliato quello con il migliore rapporto qualità prezzo oltre che 5 valide alternative non dimenticare di iscriverti al canale e di mettere mi piace ma partiamo subito al settimo posto troviamo gardigo marchio registrato set di tre trappole questo set di trappole per topi gardigo è una soluzione eccellente per catturare i roditori vivi senza ucciderli sono sicure per bambini e animali domestici riutilizzabili e igieniche possono essere utilizzate sia all'interno che all'esterno ottimo prodotto punteggio 74 punti info in descrizione sesta posizione al sesto posto troviamo sui sinno gabbia per topi vivi sui sinno gabbia per topi vivi è una trappola per topi in legno e metallo che cattura i topi vivi la gabbia è robusta facile da usare e ha un design elegante funziona bene ed è un ottimo modo per prendere i topi senza ucciderli consiglio vivamente questa trappola punteggio 77 punti info in descrizione quinta posizione al quinto posto inseriamo trappola per topi professionale professionali sono un modo efficace per sbarazzarsi dei topi senza l'uso di disinfestatori la scatola per esche contro topi e ratti è facile da usare e può essere posizionata in giardino o in industria la stazione per esche per topi box per esche per topi e la scatola per esche contro topi e ratti sono tutti strumenti professionali che offrono una soluzione rapida ed efficace per sbarazzarsi dei topi punteggio 78 punti info in descrizione quarta posizione al quarto posto non poteva mancare tacrink due pezzi trappole per queste trappole per topi sono una soluzione sicura ed efficace per prevenire i roditori sono facili da usare riutilizzabili e non uccidono i topi il foro d'aria assicura che gli animali domestici e i bambini non vengano morsi ideale per uso interno ed esterno punteggio 83 punti info in descrizione terza posizione nel nostro podio inseriamo trappola per topi vivi che vivi che non uccidono è una grande alternativa ai metodi tradizionali di cattura dei topi è facile da usare sicuro per l'ambiente può essere riutilizzato più volte funziona bene anche all'esterno ed è un'ottima soluzione per prevenire la presenza di topi in casa punteggio 91 punti info in descrizione seconda posizione al secondo posto consigliamo tosluk trappola per topi con questa trappola per topi è una soluzione efficace e sicura per eliminare i topi il veleno professionale letale efficace contro topi grandi e piccoli ed è contenuto in due box erogatori di esche velenose il contenitore per esche è pratico da usare sia all'interno che all'esterno punteggio 88 punti info in descrizione prima posizione vince la classifica la più potente trappola per queste trappole per topi sono una soluzione eccellente per la cattura di topi grandi e piccoli la colla super adesiva è più forte e più resistente mentre il topicida professionale non elettrico è sicuro da usare in casa ottimo prodotto per prendere i topi domestici e i ratti punteggio 98 punti info in descrizione non dimenticare di mettere mi piace iscriverti al canale